Sarà l'organizzazione della giornata del libro ad aprile il primo obiettivo dei 12 giovani volontari del servizio civile che presteranno il proprio lavoro sino al 24 marzo del prossimo anno alla biblioteca comunale Bernardino Giuliana. Si tratta di Libriamoci, uno dei progetti voluti dall'amministrazione di San Cataldo, comune inserito tra i 150 con popolazione superiore a 15.000 abitanti nell'elenco nazionale 2018-2019 con qualifica di città che legge. Oggi avrà luogo l'insediamento delle 12 unità di servizio civile assegnate alla nostra biblioteca comunale. È un bellissimo traguardo al raggiungimento del quale abbiamo tanto lavorato. Loro lavoreranno in biblioteca garantendo l'apertura della biblioteca, quindi l'accesso al prestito per tutti i pomeriggi della settimana. Quindi lavoreranno sia in orario antimeridiano che postmeridiano. Avremo la possibilità di realizzare tantissime attività che non sono state poste in essere a causa della mancanza di personale. I ragazzi che naturalmente saranno pian piano immersi nella gestione della biblioteca daranno sicuramente un validissimo contributo perché noi abbiamo lavorato tanto sul progetto di rivalutazione della biblioteca come centro promotore della diffusione dell'amore per la lettura e della cultura in genere. Quindi un traguardo bellissimo di cui siamo orgogliosi. Nati per leggere, rivolto ai bambini dagli 0 ai 6 anni in collaborazione con i pediatri, a cui è aderito anche il reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia, con incontri nell'angolo morbido della biblioteca ma anche nei consultori. Incontri di lettura, patto con tante associazioni della città, sono alcuni dei progetti per coinvolgere i cittadini di ogni età nell'amore per i libri. Vi invitiamo ad essere protagonisti con iniziative e proposte secondo le vostre competenze e passioni. Hanno ribadito il sindaco Modaffari, il responsabile del terzo settore e del procedimento delle politiche sociali e culturali Aldo Raimondi e gli operatori locali del progetto presenti alla conferenza.